Vespa, a differenza degli altri che leccano e cercano di non lasciare tracce, lui lascia immancabilmente tracce perché scrive un libro all'anno e ogni anno racconta l'anno politico appena trascorso e quindi, dato che è cangiante lui, ogni anno cambia a seconda di chi comanda e dato che da noi più o meno ogni anno cambia il governo, lui è riuscito a scrivere nel 90, dunque non so se qualcuno di voi se lo ricorda chi ha almeno i miei anni non può non ricordarsi, è una scena raccapricciante che ho rivisto oggi pomeriggio in una cosa che abbiamo fatto in televisione con Marco Giusti ha mandato in onda uno spezzone della famosa intervista di Vespa a Forlani, appena raggiunto dal suo primo avviso di garanzia erano nella villa di Forlani a Pesaro e Vespa era sotto braccio a Forlani, non si saprà mai chi ha preso sotto braccio l'altro e lo teneva avvinghiato a sé come ledera, avvinto come ledera e lo intervistava, si fa per dire insomma alla Vespa quindi non c'erano domande e questo succedeva pochissimi mesi prima che Vespa mandasse in stampa il suo libro Telecamera con vista o con lingua a seconda dei gusti, in questo libro uscito nel novembre del 93 esattamente un anno dopo l'intervista sotto braccio a Forlani Vespa scrive un inno a Di Pietro meraviglioso e descrive il proprio tremore e la propria emozione nel ritrovarselo di fronte perché a un certo punto riuscì a invitarlo a pranzo e Di Pietro accettò lo guardo e nonostante l'accento mi richiama terre familiari, mi sento emozionato sapete che Vespa è abruzzese e Di Pietro è molisano mangiare la pasta asciutta con lui mi fa un certo effetto si bagna tutto proprio in quel pranzo, l'hanno dovuto asciugare col phon poi anche se Di Pietro usa il cucchiaio per arrotolare meglio come faceva mio padre anche se si annoda il tovagliolo al collo perché deve continuare gli interrogatori dopo pranzo e non vuole farli con le macchie di sugo sulla camicia mi sento emozionato fin da quando formo la prima volta il suo numero di telefono infatti non riusciva a farlo perché gli tremava la mano e faceva sempre il numero sbagliato la voce di Di Pietro è diversa, non ancora indurita dalla stanchezza sono talmente confuso che riesco a perdermi per dire in tv il mio viva Di Pietro aspetto una settimana Di Pietro è molto sereno, finora non ha sbagliato un colpo il suo segreto è colpire e affondare questo era Vespa annata novembre 1993 un anno dopo Vespa aveva cominciato già a dire che Di Pietro era un porco che era mandato lì dai comunisti che aveva salvato i comunisti e perseguitato quei bravi politici eccetera e infatti qualche mese dopo Vespa fece l'intervista al capezzale di De Lorenzo non so se vi ricordate, De Lorenzo viene arrestato credo per tre giorni, non di più e al terzo giorno già si sentiva morente e si fece crescere la barba si fece truccare da moribondo e accolse Vespa con la flebo attaccata al braccio e Vespa gli fece un'intervista al capezzale in cui praticamente De Lorenzo stava esalando gli ultimi sospiri dopo qualche giorno fu beccato ai due ladroni mentre pasteggiava a quattro palmenti con alcune mignotte eccetera e altre persone e naturalmente si scoprì che la sceneggiata era tutta una costruzione però Vespa era riuscito pochi, semplicemente pochi mesi prima a scrivere quelle cose su Di Pietro che era quello che aveva fatto arrestare De Lorenzo e che infatti poi grazie a quell'inchiesta fu condannato l'ultima cosa che mi ero segnato e poi ti ridò la parola è che a un certo punto Vespa ovviamente si sposta su Berlusconi ci mancherebbe altro e allestisce varie trasmissioni dopo aver allestito naturalmente la partita finta di tennis fra Panatta e Giuliano Amato negli studi di Porta a Porta il risotto cucinato da D'Alema che cucinò addirittura un risotto col vino nero ma Vissani disse che andava bene lo stesso pensate un risotto col vino rosso e a un certo punto allestisce alcuni teatrini per Berlusconi gli fa la scrivania di ciliegio per il contratto con gli italiani e poi qualche mese dopo gli organizza una lavagna una lavagna con la cartina dell'intera Europa dove Berlusconi comincia freneticamente a tracciare le grandi opere del piano Lunardi a un certo punto mi ricordo che dopo aver fatto autostrade sconosciute di cui ancora non si hanno notizie a un certo punto gli parte la mano e da Roma fa una riga che arriva fino alla Russia inoltrata tant'è che lo stesso Vespa non riuscì a trattenere lo stupore dicendo oddio che cos'è questa grande opera lui disse sembrava la transiberiana bis no una cosa e lui disse il corridoio 12 una supercazzola delle sue e bene c'erano presenti in quello studio alcuni giornalisti sapete che ci sono sempre a fare da testimonial Ronald Silenti alcune maschere alcune sagome di cartone che sono i direttori dei giornali su cui Vespa scrive e quindi li invita sempre tutti c'è sempre il mattino il quotidiano nazionale il gazzettino il giornale di Sicilia voi controllate sono gli stessi sui quali Vespa scrive bene fece questa meraviglia quella sera c'erano graldi del messaggero Franchi del Corriere della Sera e alcuni altri Franchi il giorno dopo si è vergognato perché letteralmente non è riuscito ad aprire nemmeno a dire sono Paolo Franchi salve buonasera a tutti mi taccio ecco nemmeno quello gli hanno fatto dire per cui è rimasto lì imbalsamato mentre l'altro faceva delle righe da tutte le parti e il giorno dopo Franchi ha chiesto scusa ai lettori del Corriere della Sera in un articolo dove dice mi scuso non avrei dovuto andare la mia era una presenza puramente decorativa mi dispiace eccetera anzi dopo che Berlusconi ha potuto dipingere le sue grandi opere scrive Franchi c'è stata anche una bella canzone della giovinezza ecco appunto anche non so se fosse proprio giovinezza o qualcosa di analogo ma è una roba sulla giovinezza per renderlo più simpatico agli elettori a quel punto Franchi si scusa dicendo non ci casco più non ci vado più l'indomani arriva una risentitissima risposta di Vespa che naturalmente non smentisce affatto di aver fatto un servizietto di lingua di quelli tradizionali a Berlusconi no tutt'altro dice mi dispiace che un attento osservatore come l'editorialista del Corriere non abbia notato due cose alla canzone per Berlusconi sulla giovinezza va affiancata per la par condicio il ben più efficace servizio sull'adozione di un bambino da me fatta a suo tempo da Rutelli che portò a una visibile commozione il candidato premier del centro-sinistra cioè lui non è che dice non è vero che ho leccato il culo Berlusconi dice ma guarda ma gli è sfuggito che ho leccato il culo anche a Rutelli e in maniera molto più efficace tant'è che invece della canzoncina della giovinezza ho fatto vedere che Rutelli aveva aveva adottato un bambino di colore e l'ho fatto addirittura commuovere è possibile che non mi riconosciate questo merito e mi diciate che sono un leccacu io sono un leccacu lì li lecco tutti dal primo all'ultimo a seconda di chi comanda in quel momento per una curiosa combinazione delle stesse accuse era stata colpita Anna Larosa negli stessi giorni l'avevano accusata di avere fatto dei servigi al centro-destra e allora lei proprio quattro giorni prima ha risposto allo stesso modo di Vespa mi hanno attaccata per l'intervista a Berlusconi ma Rutelli mica l'avevo trattato peggio ho tirato fuori la tesina sullo stile rococò che aveva portato all'esame di maturità ho intervistato Rosi Greco e Malagò quello con i tendini dappertutto che non sono suoi nemici in entrambe le puntate c'era in studio Graldi c'è sempre Graldi a fare da capitello diciamo di queste cose è stuccato proprio anche se il cavaliere avrebbe preferito altri direttori beh certo un rivoluzionario come Graldi non lo vorrebbe avere nessuno contro e sono stata la prima ad avere il coraggio di chiedergli se aveva ancora il cancro e quindi diciamo che abbiamo risolto il problema ecco queste cose sono indicative del fatto che ci sono anche i leccaculo inconsapevoli io credo che ci siano delle persone che dopo un certo periodo non se ne accorgono proprio cioè hanno il pilota automatico nella lingua che va che va automaticamente per cui quando glielo dici si meravigliano pure che glielo chiedi e non solo ti rispondono ma dov'è il problema ma ti rispondono ma ho sempre fatto così d'altra parte Vespa è celeberrimo per aver detto che il suo editore di riferimento era la democrazia cristiana quando al governo c'era la democrazia cristiana e lui credeva di essersi garantito un futuro eterno con quello pensate quando gli è cascata la democrazia cristiana ed è iniziata quella roba fastidiosissima dell'alternanza per cui cambiavano anche i colori dei governi non soltanto le facce dei presidenti del consiglio quindi doversi riconvertire dalla sinistra alla destra al centro dai politici ai tecnici dai vecchi ai giovani dai rottamatori ai rottamati e poi di nuovo ai rottamati deve essere stato un esercizio terrificante a questo punto io non saprei chi affiancare a Vespa adesso magari vi dico gli altri due vorrei salvare Fede perché Fede in questa fauna è l'unico che non è un lecca culi è un lecca culo nel senso che ha passato la vita a leccare sempre lo stesso ed è ancora lì con la lingua attaccata allo stesso culo ed è trapassato molto prima del culo medesimo che ha leccato tant'è che Berlusconi ancora un po' va in giro sia pure un po' così imbolsito Fede è morto e sepolto giornalisticamente parlando da tempo ha più processi lui di Berlusconi che è una cosa semplicemente incredibile se ci pensate avendone combinate infinitamente di meno quindi il segreto è le cacù lì ma è le cacù lo perché poi prima o poi quello tramonta e tu ancora un po' prima ecco